dobbiamo parlare affinché vivi sotto il mio tetto fai quello che dico io poi quando sarai grande fai quello che vuoi tu sei grande solo per quello che ti fa comodo io tesoro alla tua età se io ho la tua età la notte è fatta per dormire a che ora sei tornato stanotte? chi è che esce stasera? ma voglio sapere i nomi dei tuoi amici se ci sono delle ragazze? se non riesco a scrivere con lui sennò con i pollici mi dispiace senti come funziona? come posso mandare una fotografia con whatsapp? resti a dormire dal tuo amico e in quanti siete? perché lo voglio sapere? ma così? io e tua madre vorremmo sapere un po' chi frequenti se ci sono delle ragazze se non ci sono da una cosa non hai tempo dopo ma va bene io e tua madre vorremmo parlare non adesso dopo non hai tempo come diventare grandi nonostante i genitori dal 24 novembre al cinema ma